Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova recensione andremo a sfogliare assieme il volume di Harry Potter e il calice di fuoco illustrato da Jim Kay. Come saprete Jim Kay ha avuto diversi problemi con questo volume, infatti è uscito con quasi un anno di ritardo perché ha avuto un problema al braccio proprio causato dal grande lavoro svolto per i tre volumi precedenti. Ad un certo punto il suo fisico ha ceduto e non è riuscito a portare a termine questo volume illustrato nel giro dell'anno prestabilito. Però nonostante questo, nonostante abbia impiegato un anno in più, lui è riuscito a portare a termine anche questo volume, ma ho letto delle recensioni un po' negative, e ho visto che alcuni non sono rimasti molto soddisfatti dal lavoro di Jim Kay, non per la qualità delle immagini presenti, ma semplicemente perché secondo molti sono davvero troppo poche. Detto questo, andiamo a sfogliare il libro. Harry Potter è il calice di fuoco illustrato da Jim Kay. Andiamo a scoprire il suo interno. Ecco che già abbiamo la piovra che ci riporta al Lago Nero, qui la tenda da campeggio di Weasley, molto molto divertente, e naturalmente si parlerà del calice di fuoco, della Coppa del Mondo di Quidditch, del Torneo 3 Maghi. Ecco che abbiamo l'indice, questo come vi dicevo è il mio libro preferito, e quindi vediamo cosa ha combinato questa volta il nostro Jim Kay. Casa Riddle, partiamo decisamente bene, mi piace molto Casa Riddle, ecco qui le pagine nere che tanto mi piacciono, in questo caso addirittura col testo verde, quindi davvero ottima, ottima scelta. Ecco una prima illustrazione, credo che questo sia il custode di Casa Riddle, e qui invece vediamo Harry con la sua cicatrice e Nagini sullo sfondo, un pezzo di Nagini. La cicatrice, ecco il primo capitolo, qui troviamo Harry che riceve la posta da un uccello, e poi l'invito. Ecco qui un'altra illustrazione che sinceramente non riesco a decifrare, credo che siano Zio Vernon e Dudley, e poi abbiamo questa lettera strapiena di Franco Bolli, troviamo qui una Ford Anglia, che naturalmente ci porta a collegare questa lettera col Signor Weasley, con la famiglia Weasley. Poi ritorno alla Tana, e poi qui ecco che troviamo il Signor Weasley, tutto vestito di verde, che ha combinato uno dei suoi guai. Caramelle sparse per la pagina, i tiri Weasley, qui abbiamo la prima immagine relativa, la prima illustrazione relativa ai tiri Weasley, che mi sembra davvero molto molto bella. Questa dovrebbe essere invece Casa Weasley, sia la parte esterna che la cucina nella parte interna. È davvero molto ben fatta, questa riprende assolutamente quella che abbiamo visto nel film. La passaporta, qui ecco che troviamo i nostri protagonisti che si recano a toccare lo scarpone che li porterà alla Coppa del Mondo di Quidditch, e in questo caso anche belle illustrazioni. Ecco che adesso andiamo avanti, Bugman e Crouch. Queste pagine così però devo dire che mi lasciano storcere un po' il naso con l'amaro in bocca, perché nel volume precedente non erano presenti pagine così totalmente bianche. Questa illustrazione è davvero bellissima, delle tende alla Coppa del Mondo di Quidditch. Abbiamo il poster con Victor Crum, è ancora pagine bianche. E poi ecco qui altre illustrazioni di alcuni personaggi, però continuano ad esserci pagine bianche, come vedete la cosa non è proprio simpaticissima. Ancora immagini in bianco e nero, ho notato che in questo volume siamo ancora a pagina 71, ma già ci sono state diverse illustrazioni in bianco e nero, secondo me dovuto al fatto che Jim Kay non ha avuto il tempo di ridisegnarle, o comunque di ricolorarle, e quindi sono state messe così come erano state fatte a matita, o comunque con i carboncini, quindi non sono state ricolorate successivamente. Sicuramente può essere una scelta stilistica, però secondo me è stato fatto semplicemente per accorciare i tempi, visto che già era in grande ritardo questo libro. Qui abbiamo altre illustrazioni, cioè qui abbiamo un'illustrazione e qui non abbiamo nulla, e poi ecco qui altra illustrazione di una delle partite, credo sia quella dell'Irlanda contro Bulgaria, e poi ancora pagine bianche, pagine bianche, e qui invece abbiamo il casino scoppiato durante la Coppa del Mondo di Quidditch con i Mangiamorte che hanno creato scompiglio, pagine bianche, e qui ecco che abbiamo questo che deduco sia Draco Malfoy. Però ragazzi prendete con le pinze quello che dico, perché non ho ancora letto questa versione, quindi potrebbe anche non essere Draco, io vado un po' ad intuito. Pagine bianche, e poi ecco che abbiamo l'apparizione del marchio nero di Mors Mordre, che viene evocato con l'incantessimo Mors Mordre, se non ricordo male. E poi pagine bianche, pagine bianche, pagine bianche, pagine bianche. Ragazzi, questo devo dire che non mi piace tantissimo. Guardate quante pagine bianche, vabbè, mi sembra un po' un'esagerazione, però passiamo all'Hogwarts Express. Eccolo qui, l'avevamo già visto anche nel primo volume, e ragazzi ancora pagine bianche. Passiamo al capitolo 13 dedicato al Malocchio Mudi. Ragazzi, per arrivare a questo capitolo avrò saltato almeno una decina di pagine bianche, e qui ecco che abbiamo un ragno, e poi ancora pagine bianche. Ragazzi, forse un po' troppe pagine bianche, così, ad occhio e croce. Qui abbiamo l'arrivo di Malocchio Mudi, e poi le Maledizioni Senza Perdono, quindi la lezione di Mudi sulle tre Maledizioni Senza Perdono. L'Occhio, devo dire che è stato realizzato molto bene, mi piace. E poi abbiamo le spillette del Crepa, e si passa Bubaton e Durmstrang. Qui ancora il ragno, abbiamo gli Elfi Domestici, pagine bianche, e questa, o finalmente un'illustrazione come si deve, questa è quella della carrozza di Bubaton che arriva sui suoi cavalli alati a Hogwarts. Davvero molto molto bella. Questa mi piace tanto, e poi ancora pagine bianche. Dopo un'infinità di pagine bianche, ecco un'altra illustrazione, abbiamo Rita Skeeter. Ragazzi, devo dire che è davvero brutta. È davvero molto molto brutta. Sembra quasi un uomo. È davvero molto brutta. Devo dire che non mi piace questa scelta. Andiamo ancora avanti, passiamo all'ungaro spinato. Come vedete ci sono davvero tantissime pagine con solo testo e poche illustrazioni. Qui abbiamo i draghi, questa è una bella illustrazione. Qui abbiamo anche un altro drago, credo sia il petardo cinese, se non ricordo male. Ok, qui ha dato un po' il meglio di sé, il nostro gym. Qua abbiamo il grugno corto svedese e abbiamo diversi draghi. La spilla potter puzza e poi la prima prova finalmente. È ancora pagine bianche. E poi Henry che entra nella tenda. Ecco che abbiamo l'ungaro spinato. L'ungaro spinato che protegge l'uovo dorato è qui. Ok, qui ci siamo. E torniamo ad avere pagine bianche. Il fronte di liberazione degli elfi domestici che è stato completamente tagliato dai film di Harry Potter. E che secondo me era una cosa molto molto carina da mostrare nei film. E poi ragazzi, pagine bianche. Pagine bianche, davvero troppe pagine bianche. Qui abbiamo un altro elfo e poi ancora pagine bianche. E l'una. L'una, credo che sia proprio lei perché è la prima cosa che mi è venuta in mente adesso che ho visto questa immagine. E devo dire che potrebbe essere benissimo lei. Magari poi leggendo scopriremo che si tratta di Ginny. Però fatemi credere che sia l'una. Andiamo ancora avanti. E poi abbiamo questa che è una bella illustrazione del ballo del ceppo. Questa davvero molto molto bella. Ma dopo altre pagine bianche vediamo cosa andiamo a trovare. Pagine bianche. Ecco qui. Questa anche è molto molto bella. È il castello di Hogwarts con qui la nave di Durmstrang. Quindi sono state regalate due pagine intere anche alla nave di Durmstrang. Come è stato fatto per la carrozza di Bubaton. Questa è una cosa molto molto carina. Però ragazzi, guardate quante pagine bianche. Davvero, secondo me sono un filino troppe. E poi si passa alla seconda prova. Altre pagine bianche. Davvero, diventa fastidioso. Abbiamo Harry che si tuffa nelle acque del Lago Nero dopo aver preso l'Algabranchia. Ecco qui gli avvincini davvero bruttissimi. Qui abbiamo Chrome in versione squalo ripreso dal film. Davvero paro paro. Qui abbiamo Harry che salva sia Ron che la sorella di Flair. E poi ecco che andiamo ancora avanti nella nostra lettura con altre mille mila pagine bianche. E poi la foglia del signor Crocci. È ancora pagine bianche. Ragazzi, ma quante pagine bianche? Davvero troppe. Io davvero sono sconcertato. Passiamo adesso alla terza prova. Eccola qui. Cioè, eccola qui anche no, visto che è tutto bianco. Non ci sono illustrazioni. Ragazzi, io non so cosa dirvi. Ecco qui un'illustrazione. Abbiamo il labirinto, ovviamente. Qui abbiamo un Atromantula. E poi ecco che abbiamo Harry e Cedric che arrivano alla Coppa Tre Maghi. Poi si passa al cimitero. Qui abbiamo la Vada Gedavra che uccide il povero Cedric. E ragazzi, ecco qui. Questo è Voldemort nella sua forma embrionale. E poi Voldemort che rinasce. E adesso si passa ai Mangiamorte. I Mangiamorte che troviamo al cimitero. E poi Prio Rincantazio. Ecco qui che abbiamo Voldemort che va a combattere con Harry. E per la prima volta le loro bacchette vanno a incontrarsi, a scontrarsi. E poi Veritaserum. Quindi arriviamo alla parte dove viene smascherato Bertie Croce Jr. E ragazzi, ancora pagine bianche. Proprio si vede che Jim Kay non è riuscito a portare a termine al 100% questo volume. Perché guardate. Tutte pagine bianche. Perché sono ripetitivo, lo so. Ma questa è la verità dei fatti. Qui abbiamo l'arrivo del vero Malottio Mudi. E poi, ragazzi, andiamo ancora avanti. E credo che il libro sia finito, sì. Perché siamo arrivati ai ringraziamenti. Ragazzi, eccoci di nuovo qui faccia a faccia. Bene, purtroppo devo dire che le recensioni che avevo intravisto su internet avevano ragione. Non è alla stessa altezza dei volumi precedenti. In molti diranno, ok, però si tratta del quarto libro che è uno di quelli più sostanziosi, di quelli più grandi. Quindi non si può pretendere che ci siano immagini per ogni pagina. Sicuramente, siamo d'accordissimo. Però è strano che ci siano probabilmente meno illustrazioni in questo libro che nel Prigioniero di Azkaban. o, ad esempio, nella Pietra Filosofale, che è il più piccolo tra tutti i libri di Harry Potter, ma che è probabilmente anche quello a più illustrazioni di questo volume qui. Lì, praticamente, una pagina sì, una pagina no era illustrata. Qui abbiamo anche 10-12 pagine completamente bianche, tutte consecutive. Quindi, secondo me, si vede tantissimo che Jim Kay ha faticato per portare a termine questo volume. E si vede, soprattutto nella parte finale, che è quella addirittura meno ricca rispetto alla parte iniziale. Quindi, proprio si nota lo sforzo di completare questo volume, ma mettendoci meno roba possibile e diluendola all'interno del volume. Io sono un po' deluso, lo aspettavo davvero da tantissimo tempo. Ci sono delle illustrazioni bellissime. Ad esempio, la mia preferita è quella della carrozza volante di Bubaton. Però, devo essere obiettivo e sincero, poteva fare di meglio. Si poteva fare molto di meglio. Il volume costa anche parecchio. Il prezzo di copertina è 39€. Quindi, non è che sia poi così economico. Su Amazon lo trovate scontato del 15%. Ci sono spesso diverse offerte. Naturalmente, trovate il link sotto in info box. Però, purtroppo, sono rimasto un po' deluso. Adesso io temo per il prossimo volume. Il prossimo è quello dell'Ordine della Fenice, che è il libro più lungo della saga di Harry Potter. Ancora più del Calice di Fuoco. E spero non vada anche lì a riempire solamente alcune pagine e poi lasciare interi capitoli vuoti, perché altrimenti si va a perdere il senso di una versione illustrata se la cosa più bella rimane la copertina. In questo caso, la copertina bellissima con la prova del drago però poi all'interno è un po' deludente. Io non vorrei un'illustrazione a pagina intera, una pagina su una pagina no. Ma andrebbe bene anche che dopo 3-4 pagine totalmente bianche si potesse trovare almeno un disegnino, una cosa anche piccolina, un oggetto, un animaletto, qualcosa che comunque faccia sorridere, faccia dire wow, che bello, in questa pagina abbiamo questo dettaglio, in questa pagina ha rappresentato questo piccolo oggettino in un angolino, al centro della pagina troviamo questo personaggio, non grandi illustrazioni, ma dei piccoli easter egg, li chiamerei così, magari sparsi nelle varie pagine, anziché lasciarle totalmente vuote. Nei volumi precedenti, ad esempio, c'erano pagine bianche, ma che comunque avevano una trama di fondo, avevano dei pattern dietro, avevano dei bordini, mentre qui troviamo delle pagine bianche e basta, senza nessuna decorazione. E questa cosa purtroppo va ad intaccare, secondo me, i 39 euro, perché se non mi riempi per bene una versione illustrata, allora io non te la pago 39 euro. Io vado a comprarmi la versione normale, che addirittura i primi volumi di Harry Potter avevano anche delle illustrazioni all'interno, ed erano illustrazioni ben fatte, carine, la mia pietra filosofale contiene delle illustrazioni, e sinceramente l'ho pagata 12 euro, non l'ho pagata 40. Quindi, ragazzi, che dire, un po' di delusione c'è, comunque sono sempre molto belli questi volumi, nel complesso è un bel volume, le illustrazioni ci sono in ogni caso, però speriamo meglio con l'Ordine della Finisce, speriamo che Jim Casey sia ripreso al 100%, e che possa finalmente dare il meglio di sé anche in quel volume. Chiamiamola un po' una defiance dovuta a condizioni fisiche di salute un po' carenti, quindi questa gliela perdoniamo a Jim Casey. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero di non avervi annoiato, di avervi tenuto 10 minuti di compagnia, e, ragazzi, adesso non ci resta che recensire l'ultimo volume che troveremo nel prossimo video, che è quello dedicato alle fiabe di Bedelbardo illustrate, ma non da Jim Casey. Ragazzi, a questo punto lasciate un mi piace, commentate, condividete il video, seguitemi su Instagram, Antonio.serie, attivate la campanella, e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! Ciao! Ciao!